Con oltre 400 telecamere in più e lettori ottici installati nei 20 quartieri cittadini Napoli si appresta a diventare una città molto più sicura. Il nuovo piano di videosorveglianza, finanziato con oltre 8 milioni di euro nell'ambito del PON Sicurezza, è stato illustrato in prefettura alla presenza del ministro degli interni Anna Maria Cancellieri ed è parte di un più ampio progetto di lotta alla criminalità che riguarda Puglia, Calabria e Sicilia. Entro il 2013 saranno complessivamente più di 700 gli occhi elettronici posizionati nelle zone strategiche della città e collegati con le centrali di polizia e carabinieri. Un progetto tecnico ha spiegato il vice capo della polizia Nicola Izzo che ha finalità non soltanto preventiva ma rappresenta un importante strumento di indagine e repressione dei reati. I nuovi dispositivi intelligenti consentiranno di monitorare le postazioni 24 ore al giorno e con speciali lettori ottici saranno anche in grado di leggere in tempo reale le targhe delle vetture ed individuarne i percorsi. E in mattinata, prima della presentazione del nuovo piano di controllo territoriale presso il teatrino di corte del Palazzo Reale, è stata celebrata la giornata della memoria, organizzata dalla Fondazione Regionale Polis per ricordare con studenti, rappresentanti di associazioni e istituzioni, le vittime di tutte le mafie.